Ragazzi siamo in diretta, potete anche fare un applauso di maggiore più piatto. Allora siamo... Cristian, dov'è Cristian? Chiamate Cristian! Comunque siamo qui a Frosinone in una normalissima cena di autofinanziamento del Movimento 5 Stelle. Adesso vi presentiamo il candidato sindaco di Frosinone. C'è una cosa normalissima, cioè al di là chiaramente dei programmi, il Movimento 5 Stelle li rispetta, è importante capire il nostro metodo. Noi oggi abbiamo finito di votare alla Camera la legge sul testamento biologico, con una macchina, con un car sharing, Carla, in quattro parlamentari, tre parlamentari, il senatore, poi se Carla tu, insomma siamo venuti in tanti. Siamo qui e stiamo portando le pizze. Portiamo le pizze quanto si paga oggi a testa? 20 euro, ammazza! 20 euro si paga, pizze, fritte e birre. Vabbè comunque insomma un prezzo 20 euro, di cui 10 chiaramente servono a pagare la pizzeria e tutte le persone che lavorano, e 10 euro vanno al Movimento 5 Stelle. Oggi quanto abbiamo avuto? Più di 400 coperti circa. Per cui stasera faremo 4.000 euro, e noi che siamo parsimoniosi, 4.000 euro ce li faremo abbastare. Ora, capite che nel momento in cui il Movimento 5 Stelle si finanzia in questo modo, e finanzia la campagna elettorale a Frosinone in questo modo, non avremo nessun grande lobbista poi da ossequiare perché ha pagato la campagna elettorale del nostro candidato sindaco. Dovete capire, io vi faccio degli esempi, Buzzi di Mafia Capitale, l'avete visto, finanziava il Partito Democratico, partecipava anche alle cene renziane, che non sono esattamente queste cene, le cene renziane, non è proprio la stessa cosa, e poi otteneva appalti su appalti nel Comune di Roma. Altro imprenditore, Alfredo Romeo, arrestato nel caso Consip, finanziava la fondazione renziana, credo 60.000 euro, la fondazione Open, c'era legata pure un tempo la Boschi, Carrai, tutta questa cricca renziana. Altro esempio, Riva dell'Ilva, l'ex patron dell'Ilva, è morto, pace all'anima sua, nel 2006 finanziò contemporaneamente Berlusconi e Bersani, a Berlusconi diede 240.000 euro a Forza Italia, a Bersani 98.000 euro, finanziamenti leciti, e attenzione, non era un finanziamento illecito, però che cosa è successo? Che negli anni successivi tutti i partiti politici hanno approvato svariati decreti salva Ilva e nessun decreto salva cittadini di Taranto. In Parlamento ci sono pure brave persone in tutti i partiti, in Forza Italia, nel PD, pure nel centrodestra qualcuno di onesto c'è, pure lì. Andato proprio a Pescara. Esatto. Il problema è che nel momento in cui ricevono maxi finanziamenti da donatori, lobbisti e qualche volta pure da qualcuno ammanicato, poi gli devono restituire il favore, come con le leggi, con gli emendamenti, magari assumendo l'amico di un amico, tanto paga pantalone. Nel momento in cui il Movimento 5 Stelle si finanzia in questo modo, e lui è il candidato sindaco e si paga la campagna elettorale con donazioni del genere, avrà un unico popolo, un unico lobbista, i cittadini di Frosinone. Questa è l'enorme differenza. E questa è l'enorme differenza. Vuoi dire qualcosa Cristian? Grazie. Voglio ringraziare Alessandro e tutti i parlamentari presenti per questa bellissima festa. Siamo tantissimi, quasi 300 persone in due turni. Io avevo detto 400, ho sbagliato? No, 300. Due, tre, due, sì. Ah, perché sono due turni. Due turni, sì. Alle 10, sbrigati che alle 10. Stasera si fa l'una. Domani c'è pure l'ambasciatore della Francia. Si lavora più tardi. Grazie tante di essere presenti qui, grazie a chi sta guardando questa diretta, grazie Alessandro. Ciao a Carla. Grazie Carla. Ciao, ciao. Noi ci finanziamo in questo modo, finanziamo la nostra campagna elettorale per il comune di Frosinone in questo modo. E' difficile, ma è tutto difficile in questo ambiente di collusione. Noi ci proviamo, ci proveremo, arriveremo al ballottaggio e cercheremo di governare questa città secondo i principi del Movimento 5 Stelle. Noi cittadini siamo fieri di finanziarla. Qualcuno, c'è pure qualche cittadino che dice non credo più a nessuno. Io lo capisco la mancanza di fiducia, era pure la nostra. Noi a un certo punto la nostra alternativa era o espatriavamo oppure cospiravamo. Abbiamo deciso di cospirare, si fa in questo modo, autofinanziandoci, stando sempre insieme. Sono cittadini dentro e cittadini fuori istituzioni che ci conoscono, ci controllano, sanno quello che facciamo. Questo è il Movimento, poi liberi di scegliere altro, però se scegliete altro poi non vi lamentate. Perché ne abbiamo francamente anche le scatole piene di italiani che ogni giorno si lamentano al bar e votano sempre gli stessi. Basta, rivotateli però non vi lamentate la mattina, perché avete visto quello che combinano queste persone e quello che combina questo sistema. Noi abbiamo un programma, andremo al governo, non andremo al governo, noi lo sappiamo, siamo forti. Ma quando andremo, se dovessimo andare, non avremo nessun lobbyista appunto da omaggiare. E porteremo avanti veramente la battaglia sul reddito di cittadinanza, perché qua ci sono milioni di cittadini che vivono al di sotto della solida povertà e noi possiamo contrastare la povertà, pulirla con strumenti come il reddito di cittadinanza. I soldi ci sono, li trovano in 24 ore per le banche, insestiamo in questo modo. Se ci volete sostenere, sosteneteci. Neanche vi chiediamo il voto, amen, non ve lo chiediamo il voto. Qui a Frosinone dateci una mano, conoscete il candidato, conoscete la lista, conoscete il programma, poi valuterete. Non vi chiediamo il voto, io non l'ho mai chiesto a nessuno, però vi chiediamo di partecipare, perché è stata l'assenza della partecipazione politica che ha generato i mostri che ci sono stati in questi ultimi 30 anni. Viva l'Italia, viva il Movimento 5 Stelle e speriamo di farlo. Ciao ragazzi, buona serata.